Ciao amiche e ciao amici, ben ritrovati su questo canale o benvenuti se è la prima volta che passate. Io sono Luigi e qui sopra si parla di letture. Come vi avevo detto nell'ultimo video, oggi avremo parlato di libri e di fatti il libro di oggi è questo, il diario di Anne Frank. Diciamoci due cose. Se vi ricordate di questo libro ne abbiamo parlato già un po' di tempo fa in un altro video nelle letture consigliate per i mesi di gennaio, vi lascio la scheda in alto e vi lascio anche il link sotto nella descrizione. Vi avevo accennato qualcosina su questo libro ma vi avevo anche detto che non avrei potuto non dedicare un video intero a questo libro. Perché lo faccio proprio oggi, proprio in questo periodo? Beh perché sapete benissimo, è trascorsa da poco la giornata della memoria e come vi avevo detto nell'altro video questo è uno di quei libri che uno non può mancare nella libreria di casa vostra, due è un libro che se siete dei lettori o comunque siete degli appassionati di lettura non potete assolutamente non leggere. Vi andrò ad elencare alcune caratteristiche di questo libro che mi hanno colpito particolarmente, lo sapete io non faccio questo per lavoro, non sono un recensore ufficiale di libri ma vi dico semplicemente qual è stata la mia idea. Come vi dicevo l'ultima volta si tratta nel mio caso di un libro edito da Burrizzoli e vi lascio tutti i link sotto nella descrizione, forse si trova qualcosina anche su Amazon, anzi vi ricordo, un momento marchetta, che io partecipo al programma di affiliazione di Amazon quindi se acquistate dei miei link a voi non cambia nulla, a me arriva una piccolissima percentuale. Uno dei motivi per i quali vi dico che io ho apprezzato tantissimo questa edizione è soprattutto per le note a piedi pagina perché durante l'intero libro, durante l'intera lettura ci sono una serie di note a piedi pagina che fanno chiarezza su una serie di termini, di vicende e di persone che vengono narrate all'interno di questo libro. Una cosa in più che mi ha anche piacevolmente sorpreso è tutta la parte iniziale che è anche una parte abbastanza corposa, infatti ve la faccio vedere, ve la sfoglio dove viene fatta tutta un'introduzione al libro, non lo so se riuscirete mai a vederla forse così dovreste riuscire a vederla meglio, esatto questa è tutta una parte introduttiva che potete ritrovare e che sinceramente vi dà una buona panoramica della situazione infatti qui vedete c'è anche una mappa dell'appartamento nel quale Anne Frank e la famiglia si ritrovavano nel momento in cui sono state scritte queste lettere Campane Un'altra cosa che ci possiamo dire su questo libro, ovviamente non vi aspettate un romanzo si tratta di una raccolta di pagine del diario scritto da questa che era una ragazzina di Anne Frank la cosa che però mi ha sorpreso in particolarmente nonostante si trattasse di una tredicenne, quattordicenne è lo stile con il quale queste lettere sono state scritte, queste pagine sono state scritte uno stile davvero molto molto colloquiale ve ne leggo un brevissimo estratto per farvi capire una cosa oggi se ne va in giro con una sciarpa pesante perché è il torcicollo e per di più il signorino lamenta dolori alla schiena non gli mancano nemmeno fitte a cuore, reni e polmoni è un vero ipocondriaco, si dice così no? ecco sulla base della cosa che vi ho letto sappiate che buona parte del libro, quasi tutte le pagine che sono state raccolte in questo libro sono in questo stile che è una cosa che a me piace particolarmente anche perché ricordiamoci è un libro che è stato scritto da una ragazzina se c'è una cosa che però non mi è piaciuta in alcuni punti del libro ma questo è un mio personalissimo gusto personale sono dei flussi di coscienza sono relativamente pochi, dico la verità ne ho incontrati qualcuno solamente all'inizio della lettura poi questa cosa con le pagine mano mano che si va avanti va a scemare ma questi flussi di coscienza, ovvero assenza di punteggiature, pensieri messi l'uno appresso all'altro un pochino mi hanno fatto storcere il naso perché sì, io sono un tipo schematico, sono amante della punteggiatura e non amo particolarmente i flussi di coscienza in qualsiasi tipo di libro si tratti ora però passiamo ad una visione più generale di questa lettura se vi ricordate nello scorso video ve lo consigliavo insieme a Se questo è un uomo di Primo Levi un altro libro che ha a che fare con la Shoah, con gli ebrei, la deportazione, i campi di concentramento la seconda guerra mondiale in generale vi ho detto all'inizio di questo video che si tratta di un libro che assolutamente non potete non leggere e che assolutamente non deve mancare nella vostra libreria ma perché, direte voi, vi ripeto la stessa cosa dell'altro video perché assolutamente non dobbiamo dimenticare ciò che è stato siamo figli di quel passato, siamo figli di quegli avvenimenti scabrosi, bruttissimi dei quali purtroppo non possiamo cancellarne traccia e l'unica cosa che possiamo fare è rileggere all'infinito queste pagine tramandare queste pagine ai posteri, a tutte le persone che verranno dopo di noi perché quelli sono degli avvenimenti, dei fatti che assolutamente non possiamo dimenticare un altro punto di forza di questo volume e vi dico la verità qui lo vedete abbastanza doppio, abbastanza spesso, al pari di una mano ma una cosa che farà contenti alle persone che vogliono leggere più cose è un libro che si legge molto velocemente molto molto velocemente, ve lo dicevo nell'altro video io non ci ho dedicato tantissima velocità a questo libro non l'ho letto molto velocemente ci ho messo all'incirca una decina di giorni, una ventina di pagine al giorno e insomma anche perché si tratta di un libro che potete leggere tranquillamente una mezz'oretta, 40 minuti prima di andare a letto senza nessun impegno stile colloquiale, linguaggio colloquiale, tradotto veramente veramente bene in questa edizione, vi ripeto, se ve la trovo ve la metto comunque sotto nella descrizione niente, basta, non mi voglio dilungare più, non mi voglio dilungare di più vi ho detto abbastanza cose grazie se siete arrivati alla fine di questo video io vi ricordo come al solito se non siete iscritti, iscrivetevi al canale attivate la campanellina perché solo così vi arriveranno tutte le notifiche dei video che io carico su questo canale grazie se mi avete seguito e noi ci rivediamo come al solito alla prossima lettura ciao 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 ciao